I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato un 27enne di origini milanesi ma residente sull'isola per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma da giorni monitoravano l'andirivieni di soggetti dall'abitazione dell'uomo decidendo così di perquisire l'appartamento. All'esito della perquisizione hanno rinvenuto, ben occultata in un magazzino nella sua disponibilità, una busta termosaldata contenente 380 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento. Avendo raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, il 27enne è stato arrestato e a seguito dell'udienza di convalida sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta del quarto arresto per droga in meno di un mese da parte dei carabinieri di Pantelleria che non sottovalutano questo fenomeno nonostante sia terminato il periodo estivo di maggiore affluenza di persone sull'isola.